E qua succede la magia. Adesso ogni capofilo si sarà attaccato allo scopino di Erika. Che cosa succede poi? A contatto con l'aria la sericina si riasciuga e quindi da tanti fili ne diventa uno solo naturalmente, senza che noi facciamo niente. Questa è come viene fatta poi la seta.